salve a tutti ragazzi ben trovati su crystal cross gaming box con un nuovo episodio della nostra serie proviamole oggi proviamo un gioco che attendevo di provare già da un po ragazzi nobody wants to die appena appena uscito letteralmente un'oretta fa sto registrando questo video che spero di riuscire a pubblicare il prima possibile proprio in giornata ed è un nuovo gioco indipendente però basato in una realtà cyberpunk con tante investigazioni misteri e cose del genere e sembra un comparto tecnico piuttosto avanzato almeno da quello che si evince d'accordo sono molto curioso e quindi vediamo un po di che si tratta ok nuova partita vai salato vuoto un po di che si tratta di un po di che si tratta di un corpo a un altro Oh! Il Dipartimento del Dipartimento Il Dipartimento della Mortalità Interessante Ok, siamo in game, pare proprio di sì Oh, should I handcuff you? We always handcuff suspects I think you'd better Sounds dangerous I'm always dangerous Too bad you didn't warn me before we got married Would that have changed your mind? If it had Where do you think we'd be now? I don't know Maybe I... maybe I wouldn't have Huh? Wow Che succede? È ammalato? Ah Ah, se l'ha immaginato? All units code 305 Provision violation at intersection of... Breaking news The president today signed into law A controversial bill reducing the age limit For free body subscriptions Despite earlier promises to the contrary Fucking politics Ok Ehm Wow, 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 wow Un tantinello di scattini, eh Va bene, ok 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 Cosa diavolo è questo? A me sembra tanto anni 30 Come ti senti? Pronto per tornare nel santo, Chief? Sento, ho sentito i papi Oh, lo so Sto guardando Senti questo? F*** Che ti... Non li riuscirò F*** L'accident era quasi due settimane Guarda Il committe ha già pensato You were a hot mess Trying to come back this soon That's just got him convinced You know, fucking medical miracle, James Chief We've been busting our humps in the same department for half a century You know I know this fucking job like nobody else And you know I've got your back, too Come on, Chief You gotta let me come back My hands are tied Officially Officially Yeah? So unofficially I'm all ears Political case Discreet I'm listening You'd be doing a favor for a guy who's signature trumps every test and commission out there Fuck yes I owe you, Chief Goddamn sickly you've had me climb in the walls Not another word or I'll change my mind Also, without your sink tests, I can't get you back in the system So I'm gonna put you with a liaison officer She'll be the one with full access A babysitter Fucking hell You asked for it, Sunshine Wait, I'll put her on Lo metto in collegamento La pistola Eh No, questa sarebbe la prova Ok Questo è il giornale Aspetta Questo è esemplare da parte Uno è esemplare Sponsigli 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 Wow Times Square Ma Times Square Manhattan, New York Wow That's for the brave new world So immersive you could drown But of course drowning is forbidden Blocked like any other exit from paradise Mi sa tanto di Max Payne z ta cosa Cara? No, fuck that No way, forget it, Chief You're already on the line James Sarah Cot Sarah James Care Let me go pull some strings Back at it He dropped us into some bullshit, didn't he? And I had such good stats up to now Crap Yeah, I'm fucking thrilled to be working with you, too Uh, what can I say? Your reputation precedes you Especially after you fucked up half the city with that train The case is closed We were unlucky That's it Of course Guys like you get away with bloody murder Guys like me? What's that supposed to mean? As if you don't know As if your MLB career makes no difference at all Hey, I've carried a fucking badge for this city since before your parents were born Okay, I'm back And you're my best friends now, right? Sarah, I've sent you all the authorizations Forward the package to Cara James, no need for brag You know what they say Show, don't tell Steiner out All right, let's get the show on the road I need the address of the nearest post office Fine Did you know there used to be rooftop bars in the city? Yeah Until they figured out open spaces make desynchronization symptoms worse Oh, bullshit You don't buy into that nonsense, do you? Tell me something, James Do you know the feeling After you've spent time in a wide open space When you go back to your capsule apartment on the ground floor I don't live in a capsule apartment No, you fucking don't So maybe stop talking out of your ass I warn you though I am not saving anybody from Demer I got principles What the fuck are you talking about? I'm talking about how they make such awful food Anybody who works there deserves whatever happens to them James, the post office? That girl in the hat overshadows more and more of the city, doesn't she? Sorry? Or the one from the body auction? I haven't seen it How could you not see it? It's on every goddamn corner È bellissimo comunque Cioè, lo scenario è veramente bello Quanto vorrei avere un computer più potente? Looks like TS-45-7 La decisione influisce sulla trama Ok Ok, un anni e trenta cyberpunk Interessante Ok 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 Minchia, 120 anni! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Uno si è piazzato qua davanti così Cos'è? Un taxi? Un taxi volante? Mi sa che non posso controllare niente Un sorso di whisky non sembra esattamente il massimo in questo momento Aspetta pazientemente Non posso controllare niente qua Minchia Ok Siamo effettivamente in game per la prima volta Diciamo fuori dalla macchina Ha! Grazie a tutti. 116-739. Grazie. 116-739. Grazie. Il pacco è in un'altra parte. Spero che ti piaceremo. Post-up pneumatica. Mi sa che esisteva davvero, anche se in maniera molto limitata, vero? Nel numero di sentito. Ok. È veramente figo. Molto, molto figo. È un po' di tempo che ogni di noi ha. È un po' di dna della città. È un monopoli, ma ancora bisogna adverso. Io dirò che questo ti dà praticamente tutto ciò che devi sapere. Dopo i passi 50 anni, i prezzi per B e C class bodies hanno aumentato da 240%. Non è più un'auto. È un club esclusivo. Ok. Ok. Vabbè, devo solo tornare alla macchina, quindi. Ok. Vabbè, ovviamente non me la fanno guidare. E quindi? E quindi? Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. ricordatevi che non sono ancora riusciti non preoccupi questa informazione è confidenziale e sarà automaticamente destruita dopo la scuola seleccite una scuola per leggere i file il suo nome è Edward Green è difficile da confuso questo mug con qualcuno Green ha spostato un tipo di exhibizione in Central Park saw'è nella notizia prima oh, sì, ho senti a parlare mi guardare sì, dovrebbe essere in alcuni giorni dovrebbe riuscire ai piedi ok, Green, Edward oh, s*** Sara? sei ok? s*** s*** oh, sto leggendo a Green holy s***, sai chi è questo? hai piedi freddo? vuoi riusci? no, no, io sono bene cosa dovremmo fare? oh siamo arrivati fuori di Ikarite e riuscire al centro di Conscienza 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 ah ok 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 bene dialogo interessante ok ecco 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 ma... hai riconosciuto da l'accident? Tipo... mentale? Tu stai guardando per me, per te stai? Per noi, per noi. Siamo in la stessa bambina, certo? Ecco, puoi riportare e mettere i piedi, ok? Tu non hai niente a preoccuparti. Io ti ringrazio quando arrivo. Car out. Oh, di... di nuovo? Ma cos'è sta cosa? Bam, così. Rivivi? So, io prendo questo lavoro. Io prendo nessun lavoro a questo punto, anche se i risultati politici festeri come russi l'accusi. Io andavo per lavorare con la società alta, di cui sempre avevo una opinione bassa. probabilmente perché si è consistente di maggiori persone. A questa altitudine l'acqua era così clean che senza un uomo io ero iniziato a suffocare. Ah, addirittura. Green Tower. Ma è interessante. Sto notando anche un'altra cosa, ragazzi. Nel senso... è uscito veramente da un'ora quindi qualche patch extra non sarebbe malissimo. Ma che altezza sta? Il tipo. Sì. James. Camera. Questo è stato un'accedente. Un'accusa staggianti da l'ultimo cerio. Cosa significa l'ultimo? L'ultimo? Mhm. Ok. Cosa significa? Dobbiamo essere sicuri. Hmm. Questo è un'accusa, James. Non lo identifico. Non l'inizio. Ho un'idea. E tu non lo piacciono. Questo è un caso federale, James. E noi dovremmo portare Green's Icarite, non qualcuno. Andiamo a ricostruzione. Gadget. Ricostruttore. Ok. Andiamo un po'. Ricostruisci Green. Ricostruire spezzoni degli eventi grazie alle informazioni raccolte. Quando la barra sinistra è attiva, quando la barra destra è attiva, quando entrambi sono attive. Ok. Ah, una sorta di minigioco. Ok. Ricostruttore permette di rivolgere il tempo. L'area gialla è il momento in cui è qualcosa di importante. Q e E per andare avanti e indietro. Ok. Ho visto questo. Cosa? Ok. Ho già l'area di rivoluzione. C'è un tipo di anomalie. Chi si importa. È Green. Pulisci il giro e andiamo. C'è una zona di anomalie e cerca altre tracce. Interessante questa cosa. Monta la testa di Green e ti ripremuta per analizzare la sua icorite. Oh, interessante. Cosa è interessante. Icorite è scoperto. E' problema di rivoluzione. E' il problema di insuratore. E' da, andiamo. Sara. Sì, è morto. Cosa? Cosa? Dicono la morte finale? Morto? Sì, solo... M-mi chiedo, rivoluzione. Rivoluzione o qualcosa. Solo... Rivoluzione o qualcosa di più così. È... È... Scusi. Sera. Roluzione. Ma non è. Non ti facciamo nulla. Enti? Non sei anche qui. Se non ci sia così. Ma non fosse così semplice. Omega Code 112358. Cosa è morto. È successo Green. Ok. Qua è nè per l'aria gialla Va bene Ok Cosa ha causato l'incendio dell'albero Quello che sto cercando di capire No, aspetta Allora, è questo Ops, ma allora Ah, eccolo E' citina in gel Gadget, raggi X, guardate verso il muro e i vestiti, ok Interessante sta cosa Il dispositivo permette di esaminare gli oggetti alla GX Per trovare il generatore Dove cavolo dovrebbe essere? Aspetta un po' Io non vedo niente Infatti è che devo vedere proprio quella parte là E dovrebbe apparire qualcosa in giallo, giusto? O devo essere sufficientemente vicino Vai provare ad andare su, va E cosa abbiamo? Ok 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 C'è qualcos'altro qui Documenti, top secret Ok M'ha accompagnato, ok Ah, c'è una bella lista qui Lascia i documenti Ah Eh, per seguire i cavi Ma io non li vedo Pat, cos'è questo? C'è questo? Ah Could you describe the scent to me? It's kind of like Sort of like grease But it's soft and gentle That's how it hits the nose anyway Tell you what Why don't you try to describe it in a way that doesn't sound gross? Give it a shot Uh, che vuol dire un sigaro? Vabbè Like a cigar Only without any shitty chemical aftertaste Ok Ehm Let's try this another way Uh Does it make you feel something When you smell it? Emotions? James, anything You think it's edible? Glossing right over the emotion talk Ok Look That sample's probably over a hundred years old Food's spoiled in the past It could make you really sick Ok Emotions Let's see It's dark It's dark Bitter And warm And it, uh Fills my heart with Joy, I guess Not good enough So Soft fluid grease Huh? A non crappy cigar And you feel joy in your heart? Exactly Ok Uh Thank you Very much Let's go back to work Scrivi l'odore del cioccolato a sale Ok Questa era una cosa Da completismo Ok Più che altro Io però ancora non ho capito Aspetta Lì c'è qualcosa Eh ma Dovrei trovare Oh ecco Ok Li ho trovati No Questo va Questo va di sotto Aspetta Questo va di qua Ok Vediamo Eccolo qua Che succede? Che succede? Che è sto rumore? What are you doing? This is a murder, chief Not an accident 100% sure I don't want to hear Another word Out of your mouth You're going to drop Whatever shit you picked up You're going to write A clean report About a tragic accident Got me? Uh You pronounced murder wrong I'm not asking Tell him All you're supposed to do Those poldrines Icarat End of story Can I Can I get it on the record That I strongly advised Against this course of action? I should have known better I should have known You could handle it It's just an Icarat Well I thought Surely Kara can't buck up Something that simple Uh Chief Listen I found a file It's got your name on it My name What are you? All right You're done You hear me? Get out of there now I want those files on my desk ASAB Along with the suicide Oh it's a suicide now I thought it was an accident You can call it A motherfucking ascension For all I can Just get it off Our corpse Vagamente corruzione Qui eh Ok Va bene Ragazzi allora Io mi fermo qua Per una semplice ragione Che voglio giocarlo Voglio giocarlo Per intero Probabilmente aspetterò Un pochettino Che mettano qualche patch Per risolvere Un pochettino Qualche problemino Di performance O cose del genere Però ho tutta l'intenzione Di giocarlo Questo gioco Sì decisamente Quindi Fatemi sapere Che ne pensate Ragazzi Ma Al 90% Vedrete una serie Di questo gioco Molto presto D'accordo? Grazie a tutti Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi anche Al primo canale E seguitemi su Twitch Lasciate un bel like A questo video Se vi è piaciuto E qui sotto In descrizione Trovate come sempre Tutti i link A miei social E community Come Instagram E Telegram Tutti i link Per supportare Il canale Tra cui i link Affiliati ad Amazon Instant Gaming E link a Patreon Link alla playlist Con tutti i video Della serie proviamolo E anche il link Per acquistare il gioco E se l'acquistate Tamite questo link Aiutate e supportate Moltissimo il canale D'accordo gente? A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti